A caccia di fondi europei da destinare al Molise, è questo l'obiettivo prefissato dal presidente della regione Donato Toma in occasione del suo primo viaggio all'estero, una tre giorni a Bruxelles fitta di incontri con funzionari e politici impegnati sul fronte della programmazione. Fondamentale quello con la responsabile della politica di coesione, Rossella Rusco, in vista del periodo di programmazione 2021-2027. Dobbiamo seguire costantemente il negoziato in corso tra Roma e Bruxelles sul posizionamento della regione Molise in relazione agli obiettivi di sviluppo in cui si colloca l'Unione Europea, ha detto Toma, che poi ha proseguito. Considerata la crisi infrastrutturale ed economica, le trattative con Bruxelles assumono un'importanza fondamentale affinché la regione intercetti maggiori fondi europei. Insieme a Toma si sono mossi per la tre giorni belga alcuni funzionari molisani incaricati di un confronto con la delegazione regionale presente presso la sede della regione Molise a Bruxelles. In particolare lo staff del presidente ha come obiettivo quello di individuare gli strumenti finanziari destinati alle imprese. Presente all'incontro presso la sede regionale anche l'europarlamentare Aldo Patriciello. Altro appuntamento di rilievo per Toma è quello col vice presidente della Commissione Europea ed alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Federica Mogherini. La chiusura della tre giorni è destinata al rafforzamento delle attività nell'area adriatico ionica. A tal fine è previsto un incontro con l'onorevole Ivan Jankovcic, già presidente dell'Euroregione adriatica. Fitta quindi l'agenda del governatore dalla quale ci si attende un primo importante passo verso una collocazione strategica del Molise sul fronte europeo. Da anni si susseguono progetti e iniziative che sinora hanno prodotto ben poco e in una fase di generale cambiamento sul fronte regionale quanto su quello nazionale il momento è propizio per determinare un'inversione di tendenza e un cambio di marcia.